Un lettore, Alfredo Roccia, mi chiede di parlare in maniera un pochino più approfondita della deportanza. In particolare lui si stupisce e dice ma come è stato possibile che per gran parte della storia della Formula 1 l'unica aderenza su cui il pilota poteva contare era l'aderenza meccanica. Come si gestivano potenze pure così rilevanti? Io faccio sempre l'esempio negli anni 30, Mercedes Auto Union, vetture da circa 500 cavalli e evidentemente nessuna possibilità di agire a livello aerodinamico per ottenere aderenza supplementare. Bene, diciamo una cosa fondamentale, aderenza meccanica. Bene, in fisica la formula che descrive l'aderenza tra due superfici ci dice che questa è direttamente proporzionale al peso e quindi alla forza che grava nella superficie di contatto tra due superfici. Venendo al tema che ci interessa parliamo del pneumatico e della sede stradale, quindi del fondo stradale. Bene, sembrerebbe tutto facile, per avere più aderenza basta semplicemente aumentare il peso. Questo rapporto tra peso e aderenza è gestito anche attraverso un coefficiente che si chiama coefficiente di aderenza e questo dipende dal tipo delle superfici che vengono a contatto. In questo caso lo possiamo ignorare perché la superficie è quella della sede stradale e il pneumatico e quindi la gomma del pneumatico. Chiaramente questo coefficiente di aderenza è estremamente variabile in funzione del fondo. Va da zero o poco più sul ghiaccio a l'unità o qualcosa di più nel nostro caso, nel caso cioè del contatto tra pneumatico e sede stradale. Sembrerebbe facile allora, mi serve più aderenza? Basta che aumenti il peso, ma il problema è che aumentando il peso aumenta anche l'inerzia e l'inerzia è quella caratteristica dell'oggetto, in questo caso dell'automobile, per la quale che descrive la tendenza dell'oggetto stesso a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Cioè l'inerzia ci rappresenta la tendenza che ha un corpo a reagire agli stimoli esterni. Non per niente una vettura molto pesante è una vettura poco maneggevole, cioè nel passaggio ad esempio nel momento dell'imbardata, quindi nel momento in cui io giro lo sterzo per cominciare a inserirmi in una traiettoria adeguata alla curva che devo percorrere, beh c'è un'inerzia nella sua attuazione. Ma c'è di più, da questa inerzia e sfruttando questa inerzia sono anche i motti perturbatori, quindi la forza centrifuga in curva oppure l'inerzia in frenata e in accelerazione ad essere coinvolti. Quindi se io aumento il peso, impigrisco l'automobile e allo stesso modo rendo sempre costante il rapporto tra aderenza e inerzia. Qualunque aderenza io cerchi con il peso viene neutralizzata dall'inerzia, tranne che nel caso che io questo aumento di peso lo ottenga sfruttando l'aerodinamica o meglio la deportanza aerodinamica. Perché l'aumento di peso, l'eccezionale aumento di peso che si verifica con la velocità in una Formula 1 moderna che arriva a raddoppiare il peso reale della vettura e anche andare a livelli ancora superiori, bene questo peso non entra nel conto dell'inerzia. La vettura da 850 kg passa a 1600 o a 2 tonnellate grazie alla deportanza aerodinamica ma dal punto di vista dell'inerzia la vettura pesa 850 kg. Quindi io riesco a avere, riesco a truccare le carte, io riesco a avere l'aderenza relativa a un peso di 2 tonnellate con un'inerzia che non se ne accorge e continua a riferirsi agli 850 kg reali della vettura. È da questo salto che nascono le prestazioni delle monoposto moderne, della Formula 1 essenzialmente moderna. Si tratta appunto di giocare a carte truccate con la fisica, con un paradosso che la prestazione della vettura in curva, in accelerazione parzialmente proprio perché l'accelerazione dove servirebbe avere deportanza aerodinamica, l'accelerazione è tra 0 e 160 km all'ora e lì non c'è deportanza aerodinamica consistente, bene ma in curva e soprattutto in frenata il gioco è fatto perché a quel punto io sfrutto un'enorme aderenza è una piccola inerzia. Con un paradosso ulteriore che la monoposto aumenta la sua performance aumentando la velocità. È per quello che nella Formula 1 moderno noi abbiamo, siamo di fronte a una progressiva convergenza tra velocità media e velocità massima in un dato circuito. Se torniamo a quegli anni 30 dell'auto union e della Mercedes avevamo vetture che superavano i 350 km all'ora ma che facevano le curve a bassa velocità e quindi c'era un salto enorme tra velocità media e velocità massima. Questo perché l'unica aderenza disponibile era l'aderenza meccanica che sopporta accelerazioni dell'ordine di un G. Oggi, come sapete, arriviamo in frenata a livelli di 6 G. Questo ha comportato anche dei cambiamenti nel tipo di guida perché avendo un solo G a disposizione di accelerazione si poteva affrontare il tema in due modi. La curva affrontata impetuosamente, il controsterzo, la continua remata in curva oppure il pilota preciso. Oggi non ha nessun senso, oggi c'è una sola possibilità di guidare questi automobili e ce la impongono loro, non siamo noi a imporla loro. Pensate alla frenata. Se io devo sfruttare la deportanza aerodinamica al massimo, vuol dire che io devo concentrare la frenata nel momento di massima velocità perché è nel momento di massima velocità che io ho la massima differenza tra peso reale e peso virtuale e quindi la massima differenza tra l'aderenza disponibile e l'inerzia che si riferisce a questo tipo di situazioni. Ascanelli, ingegnere Ferrari, poi ingegnere Maserati, nella sua permanenza alla McLaren aveva capito questo concetto e l'aveva sfruttato con l'impiego del servofreno che consentiva di fare una frenata puntuale perché la frenata in Formula 1 è l'opposto di quella che si ha su una vettura di serie. La frenata in Formula 1 è il massimo della frenata nel momento di massima velocità e poi mano a mano allentare la pressione sul pedale, mano a mano che diminuendo la velocità diminuisce la deportanza e diminuisce l'aderenza disponibile. Alfredo Roccia ci chiede anche ma come era possibile che i piloti dell'epoca potessero guidare vetture così complesse? Era possibile ma poi c'è anche un aspetto più semplice e meno tecnico. Io ho conosciuto e ho frequentato per molti anni Piero Taruffi un pilota ma anche un ingegnere ma anche un progettista e gli chiedevo ma come era possibile durante una mille miglia affrontare con macchine, la Ferrari con cui ha vinto l'ultima mille miglia aveva più di 400 cavalli, aveva gomme di sezione molto ridotta, sulle gomme di sezione ridotta poi sarà interessante ma ne parleremo ancora una volta perché in quel discorso che vi ho fatto dell'aderenza mi sarete accorti che manca la dimensione del pneumatico. Ho detto che il rapporto tra l'aderenza è funzione del peso essenzialmente della lettura, non figura in nessun modo la dimensione del pneumatico, in realtà il pneumatico c'entra e come ma lo vedremo dopo un'altra volta. Taruffi mi diceva sì 400 cavalli, motori anteriore, trazione posteriore, distribuzione dei pesi tutt'altro che ottimale, ma sì ma c'era un modo, bastava andare più piano. Bene questa è anche la realtà, le vetture, le Mercedes e Auto Union avevano sì 500 cavalli, facevano sì 300 all'ora o 350 chilometri all'ora, in versione record passavano anche i 400, ma in curva andavano semplicemente piano. Potrà essere banale ma è così. Oggi è l'opposto, la velocità crea essa stessa aderenza e una vettura del genere si guida sempre allo stesso modo. C'è stata una convergenza degli stili di guida. Vogliamo dire che l'auto domina sul pilota? Beh, credo che ve ne siate accorti tutti. Parleremo ancora di questo tema ma per adesso siamo andati anche troppo lunghi. Punto a capo ma si ricomincia.